Con Giancarlo, immagino anche per voi, per la Ranova Under-19 poteva essere l'anno della consacrazione, la prima categoria Elite nel settore giovanile, anche se parliamo di dilettanti, riferendoci all'Under-19, è stato veramente un peccato. Beh sì, appunto noi questa stagione avevamo portato per la prima volta per l'Azionale della Ranova una prima categoria Elite, tra l'altro portando avanti, come dicevo prima, questo progetto tecnico, quindi il 60% della Rosa se l'era conquistata sul campo questa categoria. E' un grande peccato, un grande peccato perché poi tra l'altro noi prima di Natale avevamo iniziato un programma di richiamo di preparazione, tra l'altro aggiungo questo piccolo, apra chiudo parentesi, noi essendo fuori comune di Roma, il gran blocco dei giocatori è con la comune di Roma, comune di Bracciano, insomma abbiamo avuto anche problemi con la fascia arancione, quindi noi ci siamo un po' inventati dei gruppi di lavoro. Io sono andato al parco a lavorare con i ragazzi sotto Natale, quindi un lavoro prettamente aerobico, altri ragazzi avevamo dato un programma, il prof, un programma da fare in maniera individuale e nonostante tutto si sono impegnati e prodigati a portare avanti questo lavoro. Ovviamente come dicevano anche i colleghi, quando c'è stata la nuova data del 5 marzo è stato un contraccolpo, un contraccolpo perché comunque anche quei 20 giorni di lavoro che avevamo fatto con 3-4 allenamenti settimanali è venuto un pochino a scemare perché giustamente i ragazzi dicono abbiamo fatto tutta questa fatica per poi riposticipare. Quindi è dura, è dura e comunque nonostante tutto come ho detto prima la risposta c'è, non siamo mai sotto i 20 giocatori in allenamento, insomma sono una rosa dei 27-28, quindi diciamo che tutto sommato va abbastanza bene da quel punto di vista. Fare una differenzazione tra un giocatore che fa l'Under-19 nazionale e Elite, quindi in teoria oggi il nazionale riparte il 15 febbraio e l'Elite forse il 5 di marzo non è giusto perché credo... 5 marzo c'è da fare però un'altra sorta di mini preparazione, ci sono i recuperi, quindi poi effettivamente credo che se ne riparli dopo Pasqua. 5 marzo? Punto interrogativo, ovviamente. Sì, sì, no, no, appunto dicevo è assurdo anche perché io ho dei ragazzi che stanno in classe con altri ragazzi che fanno campionato nazionale e loro puntualmente tutti i giorni si sentono dire che noi dobbiamo fare un lavoro di distanziamento e invece chi fa il nazionale, appunto per il protocollo della Serie D, si sono sempre allenati e potendosi fare le tocce, fare le partitelle a fine allenamento. Quindi è una cosa che trovo un pochettino assurda e come era a suo tempo quando si parlava che il regionale e l'Elite ripartiva, il provinciale no, dove io firmamente mi sono battuto e dicevo che era una cosa incredibile, insomma, fare una differenzazione ragazzo A e ragazzo B, credo che anche in questo caso o si ripartano tutti o non riparte nessuno. Che sicuramente questo, che siano 12-18 mesi di stop da quando è iniziata la pandemia porterà delle ripercussioni importanti, non oggi ma tra due o tre anni, che ci sarà sicuramente un vuoto, ci sarà poco materiale parlando di giocatori a livello di calcio, però quello che io spero è che dall'alto, poi non so se i colleghi trovano un mio, diciamo questo mio punto di vista, io spero che possa essere l'occasione anche per magari creare due nuove categorie, magari la categoria under 13 e la 18, Perché appunto, come diceva il direttore, i 2008 sicuramente saranno danneggiati e magari una categoria di inserimento come l'under 13, dove magari iniziano tutti da zero, quindi tutti i campionati provinciali, dove tutte le società che vogliono si aderiscono e la stessa cosa valga anche per l'under 18, perché non ci dimentichiamo che anche lo sbalzo, che il salto che deve fare un giocatore 2004, è l'anno prossimo che deve essere inserito in un campionato di under 19, è complicato, cioè o sei bravo o bravo, o magari anche in prima squadra, che è ancora peggio. Esattamente, sicuramente oggi io devo dirti che se a risponderti deve essere il cuore, ti dico ripartiamo domani, però se ti dico devi rispondere la testa, quindi un po' di razionalità, probabilmente la ripartenza sarebbe una ripartenza un po' forzata, anche perché, come leggiamo quotidianamente, ci sono delle società che erano partire con degli obiettivi e per x, y motivi, che non sta a me dire se è trovata a svincola 8, 9, 10 giocatori, e quindi magari una ripartenza, ipotizziamo, al 5 di marzo, magari una squadra che era andata per vincere il campionato magari a fatica, però portava a casa una salvezza. Quindi, sulla tua domanda che mi hai fatto, probabilmente ti dico, forse sì, forse sarebbe anche più idoneo e più corretto mettere un punto, c'è diverso tempo per programmare la stagione 2021-2022, e così almeno non si va a forzare una situazione che comunque poi non sappiamo come potrà andare, sempre per il discorso dei contagi, perché per il discorso tamponi che faceva il direttore è una cosa giusta, però se io la estendo fino all'Under 14, noi parliamo di tutte le categorie che fanno l'agonistica, dovranno fare 300-400 mila tamponi nel weekend, io non so neanche se a livello regionale siamo in grado di poterlo supportare, un input così gravoso di tamponi, quindi è tutto molto complicato secondo me. Si parla tanto, tantissimo dell'abolizione del vincolo sportivo da qui a luglio del 2022, quindi anche con una rimodulazione dei premi di preparazione per le società di settore giovanile. Questo è un problema che comunque succede spesso, ma anche ad esempio per le piccole realtà, che magari le piccole realtà riescono a tenere un ragazzo bravo, lo valorizzano e poi non ne tirano fuori nulla, diventa un problema, diventa un problema anche perché come diceva prima il direttore, come la Lodigiani investe per poi arrivare a produrre, a far crescere un ragazzo, a far diventare, chiamiamosi un giocatore e quindi per fare comunque, per monetizzare pure, perché poi lo scopo è quello, bisogna che queste società vengono comunque tutelate in qualche maniera, altrimenti diventa un inferno.